Buon padel a tutti, siamo tornati con un evergreen, ragazzi, linea Babola, siamo sempre nella linea Viper, quindi top di gamma e abbiamo preso lei, quella che si colloca al centro tra la Air e la Technical, quindi quella che per noi è la scelta migliore che hanno fatto quelli di Babola per puntare su una racchetta che aiuta tanto nella spinta ma anche nel controllo, ma questo lo diremo più tardi perché siamo con la Counter Viper, una racchetta, che cosa cambia l'anno scorso? Allora, poco ma qualche differenza c'è, estetica a livello di paint job perché comunque la grafica è cambiata, ma la differenza principale è la gomma, ma fermi là perché ne parleremo tra qualche secondo, prima andiamo a vedere com'è fatta Allora, Babola ha mantenuto il suo manico lungo 14 cm che è un'ottima scelta e questo sistema di Smart Bat Cup Lui E la racchetta partiva tipo la ST2 di stupa, all'epoca 4 anni fa, ricordi memorabili dei tornei dove partivano le racchette, ma abbiamo detto questo manico che è più cicciotto sulla parte finale, quindi aiuta molto bene l'impugnatura e va a fare inserire questo sistema di cambiamento dell'accetto all'interno del manico Manico, come ci diceva Daniel, molto fino che con due over grip può aiutare a mantenere una buona impugnatura, ma è molto bello perché è lungo e l'hanno copiato quelli di Adidas E non solo, e non solo, dove? Su quella di Ortega, quindi a sto punto mi chiedo perché fare un manico così lungo e così comodo su una racchetta femminile e mantenere quello da bambino nella metal bone? Sì Tu vuoi una spiegazione? Loro ci dicono che le ragazze, le donne sono più portate a portare i colpi con due mani per avere un maggiore forza e quindi hanno bisogno di un manico leggermente più lungo Secondo me è la classica, scusa che ti mettono, ma non ho fatti i compiti e me l'ha mangiato il cane, ma sono cose poi loro e andiamo a vedere cose Quindi andiamo a vedere questo manico, questo sistema di antiridazione che è identico per tutte e tre le racchette della linea Vyper di Babbo L'anno è ormai identico Però in questa racchetta perché dico che è la scelta migliore? Perché sulla leggerezza della Vyper, la fucile a pompa della tecnica, questo qua permette di non avere quei problemi che si riscontrano spesso Sulla scelta di una tecnica, non tutti ce li hanno fortunatamente, ma essendo racchette potenti e una troppo leggera che spinge e un bel fucile danno problemi di polso, gomito, ricondini e cose varie Con questa qui invece devo dire che la percentuale si abbassa di molto, non dico che risolve il problema, ma si abbassa di molto perché la racchetta è sempre una racchetta rigida che respinge la pallina Un piatto Però dobbiamo dire che il Vibrasorb System 2 fa il suo egregio lavoro Sì, aiuta, sempre secondo noi, su questa racchetta Allora, il piatto è un carbonio 3K, qui ci troviamo sui 3K con spin a rilievo 3D spin plus Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che hanno unito una leggera sabbiatura, ma molto, 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 molto leggera, con un leggero spin a rilievo Quindi ci sono dei piccoli rombetti, quadratini, messi in diagonale, in sorti, che vanno a dare un senso di rilievo Non c'è sabbiatura, c'è spin a rilievo, quindi aiuta tanto Guarda, forse un minimo di sabbia, poca, 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 poca Se proprio se ne andiamo a cercare Un telaio full carbon, sempre 3K Una racchetta che forma tonda, ma non troppo tonda Diciamo che la cosa che tanto non piace, che ho letto tantissimo, è questa Che è ingombrante, sembra ingombrante Beh, diciamo che è molto, un piatto bello tondo Oversize Ma la cosa che noi ci, quel punto interrogativo enorme, che è il cambiamento con gli anni passati Perché tanti se la mettono, una racchetta che vince non si cambia Racchetta che vende non si cambia, perché parliamo sempre di una linea Viper Che è una delle più vendute negli ultimi anni E l'Xeva, questa famosa Xeva, che qui dentro c'è una gomma con un blocco unico Non è multistrato, non ci sono due strati, è un blocco unico di gomma Xeva Che a noi è sembrata più rigida Nel senso che non è che fanno un blocco di gomme e la montano dagli anni d'oro del 2020 No, ogni anno c'è una produzione diversa e quest'anno probabilmente hanno fatto una scelta Di mettere un blocco unico di gomma sempre di Xeva più dura Più dura e lo riscontriamo anche in campo questo Esatto, esatto, anche in campo si vede Infatti Marco mi ha chiesto subito come l'hai trovata Ho detto meglio rispetto allo scorso anno Meglio perché l'ho sentita un pochino più reattiva Ragazzi, è una pala rigida Il tocco è un tocco abbastanza duro Non è una pala dove la pallina entra Ma viene respinta immediatamente Il punto dolce è veramente molto buono Rispetto allo scorso secondo me anche leggermente aumentato Grazie anche all'Halls Pattern System Che ha la disposizione e la distribuzione dei fori di diversi diametri Sul tutto quanto il piatto In campo si è comportata secondo me davvero molto bene È una racchetta che da fondo campo ti dà quella giusta reattività Quella uscita di palla buona, secca, precisa Ma che ti concede anche qualche distrazione in più Il bilanciamento non è altissimo Ma comunque per essere una tonda è questa qui È a 26 centimetri Mettiamo anche il peso Potete vedere il peso anche di lei Perché diciamo che la scelta è perfetta? Perché hanno un bilanciamento leggermente alto Però una rigidità minore Una respinta, un 3K che aiuta tanto A una giocabilità rispetto a Tatechical Viper È un peso che ci aiuta a sentire la racchetta in mano Quindi è la polivalente Rare Re L'hanno messa al centro anche nella vendita sui cataloghi Perché è quella che si colloca al centro come polivalenza E come racchetta che racchiude un po' tutti i tipi di colpi Esatto A me lo scorso anno era piaciuto tantissimo la Air Viper Ho già anche giocato per qualche mese Quest'anno se devo scegliere vado su lei L'unica grossa pecca che però ormai si porta dietro da anni È vero che è una oversize È vero che è una forma tonda È vero anche che la maneggevolezza non è proprio il massimo Anzi soprattutto sotto rete si sente Ma prima di andare sotto rete Ci tenevo a dire che da fondo campo Lei ti concede davvero una zona di comfort molto ampia Molto importante Anche nei pallonetti Se accompagnati bene È difficile sbagliarli Vengono giusti, profondi e lineati Cascono proprio lì Lì Allora diciamo è la racchetta Che se tu gli chiedi qualcosa lei te la dà Parliamo sempre di un livello alto Lei te la dà Cioè tu devi saper giocare a padel O almeno sapere i colpi come vanno fatti Perché siamo sempre su un top di cana Di amma altrimenti c'è la linea Veyron Che è quella un po' più bassa Perché è più bassa? Non per la qualità Perché è sempre un filba di vero e filba di carbonio Ma essendo con il piatto misto Rallenta un po' l'uscita di palla Assorbe un po' di rinforzamento Ti concede qualche secondo in più A controllare quei colpi che ancora non si hanno nel background Quindi diciamo che Babolat raccoglie un po' tutti i tipi di giocatori E qui siamo su una linea alta In cui devi saper chiedere Come Daniel diceva Se devi fare una vibora, una bandega, uno smash Beh Devi dare un po' di spinta Lo devi saper fare Perché la respinta Il sound, il toc Si sente Vedete negli scambi Daniel Che ha fatto lui Ragazzi è diventato Un grandissimo giocatore Per colpa mia che mi sono dovuto fremare un pochino Ho fatto provare Smontare un braccio a Daniel E quindi io mi sono messo lì Trambo a imparare al cesto Ha fatto tanti colpi a Daniel Che è diventato un fenomeno E lo vedete nei colpi E provete tanti facchi Allora Sotto rete Sotto rete E piccola tiratina orecchie Semplicemente perché Perché non è maneggevole Quindi comunque A scambi prolungati Lei si sente Tenerla in mano Un po' dopo un po' si sente Ma se le volle vengono portate Con il giusto movimento Escono profonde Escono secche Escono precise Escono quasi chirurgiche Quello che bisogna fare attenzione Soprattutto sulla decata Sulla palla smorzata Perché come dicevo La palla non entra Quindi viene respinta subito dal piatto E quindi rischiamo di mandarla troppo lunga E farci fare un buco completo dall'avversario I colpi dall'alto Buona la bandega Un po' meno Vibora e smash Con il kick Perché? Perché proprio non è maneggevole Insomma si sente Il bilanciamento Tanto piovono palline Il bilanciamento a 26 cm Non eccessivamente alto Non ti aiuta neanche nell'inerzia della punta Però nel complesso Veramente un'ottima para Sa far tutto praticamente Quindi ragazzi Promossa Vi abbiamo detto che è promossa Assolutamente E possiamo dire che è promossa In pieno Quindi Mi dispiace questa racchetta Sai quella cosa che mi dispiace a me Che tanti dicono C'ho la tecnica La Viper e sto cattivo C'ho l'Air Viper E qui c'è una racchetta figa E tanti si vergognano di lei Invece non vi vergognate Della Counter Viper Ragazzi Psicologicamente Tanti si vergognano No c'è una tonda Bravo C'è una tonda C'è una giallona Nangombrante Sembra un menesterlo No Non vi vergognate Della Counter Viper Promossa a pieni voti Ma dove si trova Marco Dove la trovano Vi stavo a dire Vi abbiamo detto come si comporta Vi abbiamo detto Ma dove sta Su appaddle.it Noleggiatela Compratela O acquistate Questa qui Usata col codice sconto Padel Lovers Ragazzi Davvero Un'ottima scelta Quindi Non avete scuse Se noleggiarla Comprarla No non ci ha discutere Ragazzi Non lo facciamo mai Ma oggi lo vogliamo fare Vi chiediamo La possibilità Di metterci E di farci crescere Con il canale Mettendo un mi piace Seguendo il canale Seguendoci Su tutti gli altri Nostri social Padel Rattino Basso Lover Rattino Basso Su Instagram TikTok E Telegram E su Telegram Metteremo anche Sconti e novità Tra cui il torneo Che faremo il 9 e il 10 marzo Al Padel Life Si dice là Dove potete giocare con noi Incontrarci Fare casino Divertirvi E confrontarvi Con tantissimi Giocatori di diverse Entità Categorie E cose varie Ma provare anche Queste tacchette Grazie alla Dragonet Che sarà presente sul posto E grazie al suo appadale Che ce la porta Quindi tutte le tacchette Che visitiamo noi Potete testarle Di persone Darci i vostri feedback Ma poi potete giocare Anche in campo con noi Chi vince La Master Final Vincerà una Academy Nella Manu Martin Academy Quindi se volete Partecipare al nostro torneo Scriveteci O qui O su Instagram Vamos